Nulla da fare, ancora una volta la fortitudo ci ha provato, ma a questi livelli svolgere il semplice compitino non può bastare. La squadra di coach Martino, poco cinica e troppo inconsistente nella lotta sotto le plance, ha lasciato al palaverde non solo i due punti ma anche la differenza canestri al termine di una gara contraddistinta dalle 23 pale perse dei bianco-blu, un dato che in trasferta si paga presso che sempre al massimo prezzo. Partita sporca, tratti ruvida come era nelle attese, Treviso aveva bisogno di punti salvezzi e di riscattare le ultime tre sconfitte casalinghe consecutive, la fortitudo cercava quella consacrazione che lontano da Piazza Zarita non è ancora riuscita a trovare. Ne è nata una sfida in cui spesso a regnare sovrano è stato l'errore da una parte e dall'altra, i veneti padroni di casa trascinati da un pubblico che sentiva in maniera particolare il confronto con una delle rivali di sempre, hanno vinto con merito, unico vantaggio bolognese al 3-0 iniziale, giocando in maniera ordinate, mettendo sul parquet più convinzione senza dover neanche ricorrere a particolari alchimie per oscurare le principali bocche da fuoco della Pompea. Arginato il gioco di squadra, la fortitude è stata costretta ad affidarsi troppo spesso alle iniziative personali, con Pietro Aradori che ha cercato di trascinarsi la squadra sulle spalle con i suoi 21 punti. Fortitudo camaleontica nel rimontare i break subiti nei due tempi, meno 13 nella prima frazione e meno 15 nella ripresa, ma comunque generosa nel tornare sotto di solo quattro lunghezze a tre minuti dalla sirena finale, quando toccava a tessitori chiudere la sfida con tre canestri consecutivi, segnati su altrettante deboli difese bianco-blu.